Grazie a tutti Grazie a tutti 18 anni sono impegnativi Ma cazzo vuoi? Infatti l'hanno chiamata a fare il militare a Verona Esatto Guarda i fari Rimambisci Stai lì eh? Colpo di scena Stavo dicendo esce Pronto? Oh no perché L'ansia di correre per arrivare ai 5 minuti di mezzanotte così non ci arrestano e non passi il compleanno Pronto? Daniella Vedi? No E' già la Daniella pronta per prendere il microfono Direvati che ci sono i celli lì No dico tutto di cosa perché sennò a mezzanotte si vanno il compleanno dentro invece non mi sembra il caso Oh manca 5 minuti eh Oh Un applauso al sindaco che ci ha benedetto No ci ha benedetto Eh ci vuole Un applauso a Roppi che ci ha fatto questo piacere E' un momento serio? E' un momento serio? Sì sì Dico deve trovare i gioielli perché adesso è il momento insomma dei sottotitoli Ok? Noi ricordiamo tutti gli appuntamenti degli spettacoli Drag Marcella Potete trovare la pagina su Facebook La pagina su Facebook di Drag Marcella Su Facebook trovate anche la pagina di Marchesa Casati Di Kimberly Logan E ovviamente anche la pagina è giustamente di Gemma Jones Allora non potete mancare ai nostri appuntamenti ai nostri spettacoli basta andare nel sito www.lmshow.it Dovete venire dovete venire agli spettacoli dovete venire numerosi soprattutto dovete essere numerosissimi sta finendo di contare è numerosi speriamo che non si sbaglia perché se si sbaglia è un casino comunque dovete dovete essere numerosi non potete non mi sbaglio sempre non potete mancare di rigore che dovete esserci perché i nostri spettacoli sono ovviamente stupefacenti sono veramente unici e quindi insomma non potete mancare assolutamente perché insomma sono spettacoli veramente esineranti sono spettacoli per celibati nobilati matrimoni e funerali perché tanto svegliamo anche i morti all'occorrente abbiamo onorante funebri San Pietro in Casale detto ciò siamo arrivati alla fine dello spettacolo e vi salutiamo con un caloroso applauso Pisa Casati da Macaricolo Lumenia Pocket da Modena Kimberly Lugar e quella che riporta in questo mondo di paillettes illustrini Grazie a tutti Grazie a tutti E un grande applauso a Giuseppe e Mirko! Oh mamma! Tutto so che è il mio casale perché è unica. Detto ciò, io vi ringrazio e vi saluto con la classica frase che, ripeto, in tutti i locali d'Italia chi dice di essere una signora molto spesso è un uomo! Grazie! 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 Grazie!